Sì, noi siamo con Cervelli, nuovo acquisto del Caldarolo che si è subito ben inserito nella squadra di Capitan Nelpiti, anche oggi ha segnato, gol al novantesimo, un 4-0 che visto da fuori è sembrato tutto facile, è andato così? Sì, oggi è andato abbastanza bene, abbiamo affrontato subito la partita colpiglio giusto e siamo stati facilitati dal fatto che abbiamo fatto subito golle, poi abbiamo anche dilagato l'importante era riscattare la brutta partita di Monte Cassiano, ci siamo riusciti e bene è così insomma, guardiamo alla prossima